Circo un anno fa usciva il mio primissimo video sul potenziale piano di recupero del fiume Orete di Palermo un video che quasi immediatamente si è viralizzato, è andato abbastanza forte e a me si è a botte di fortuna, ha scatenato una serie di reazioni da cui delle risposte molto positive anche inizialmente alla politica e questo ha portato nel giro di brevissimo riunioni, contro riunioni, tavoli tecnici connessioni tra gruppi che prima non si parlavano o si ignoravano addirittura tra associazioni ambientalisti, istituzioni, vari compartimenti all'interno delle istituzioni cittadini che prima avevano solo delle idee propositive rispetto al recupero del fiume e invece hanno avuto la possibilità di mettersi all'opera anche per la raccolta di rifiuti o la raccolta delle firme siamo arrivati in testa alla classifica provvisore del FAI, concorso nazionale dei luoghi del cuore o finalmente i palermitani per un motivo o per un altro hanno capito che hanno un fiume che scorre sotto casa che potrebbe essere una delle idee della resurrezione di questa città è stato il 2018 l'anno dell'Oreto, ni, perché si è ricominciato a parlare del fiume ma non si è effettivamente ancora agito per il recupero dello stesso ci eravamo dati più o meno tre anni per recuperare il legame affettivo con il fiume perché abbiamo detto che se la cittadinanza non recupera il legame affettivo con il fiume è inutile lo recuperiamo, cosa che sta piano piano già avvenendo perché quest'anno ci sono state delle belle escursioni e la gente è tornata sul fiume si è anche viralizzata la parola Oreto all'interno della città e la voce ha cominciato a girare, si è recesa la speranza sono tornati a galla numerosi progetti per rivalorizzare il fiume Oreto sono state chiamate in causa anche persone di ambito internazionale come ricordiamo Florinette, come tantissimi altri che sono sul nostro territorio e adesso c'è una connessione tra tutte queste persone perché è molto delicata questa parte prima di arrivare al parco? è il momento di capire chi fa cosa, bisogna stringere il cerchio ed è il momento più difficile siamo a Palermo, ogni testo è tribunale, come dice Sciascia, ogni siciliano è un'isola senza teamwork e costanza però non si va da nessuna parte nel 2019 quindi potrebbe essere l'anno effettivamente dell'Oreto potremmo anche avere una piccola accelerazione non magari tre anni ma due per rilacciare il rapporto affettivo con il fiume e poi magari al terzo, al quarto, al quinto, al sesto parlare di parco c'è già un contratto di fiume aperto, ci sono già diverse proposte in comune per il recupero in un modo o nell'altro del fiume anche per tutti i finanziamenti, la regione è consenziente insomma ci sono tutti ingredienti per l'anno prossimo non ci saranno premi, non ci saranno medaglie l'unico premio sarà di poter camminare all'interno del parco l'Oreto quando sarà, tra dieci anni, tra cinquant'anni, non lo so e poter finalmente dire ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta tutti insieme grazie a tutti